Pronto? Sì? Ah, ancora? La mela? Eeeh, l'unica, insomma, cerca di non fare come l'ultima volta, eh? Sì, eh, un po' d'allenamento, vabbè, ok, prendo la mela, prendo la mela e vengo, non bene, ciao. No, 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 no. Ma che cazzo sta? Qua? Ah, ciao papà, ho portato la mela. Ah, era ora. Eeeh, metti di lì. Dove? Lì? Sì, là in fondo. Eh. Ok, fermati là. Sì? Solito posto. Bene così. Bene così papà, posso andare? Sì, sì, vabbè, ridammi la freccia. Vai, vai. Posso tenermi la mela? Ciao papà. Saluta mamma. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Va bene. Ah, va bene. Grazie.